ciao ragazzi bentornati sul canale sotto la lampada oggi vi propongo proprio un video brevissimo in cui vi racconterò quali sono i nuovi criteri di valutazione che ho pensato per le video recensioni per chi mi segue fin dagli albori ha notato appunto questo cambiamento nella valutazione delle varie fragranze e quindi ho voluto cambiare passando da un sistema di valutazione forse un pochettino troppo complesso a uno molto molto semplice per quanto riguarda le valutazioni delle fragranze ci saranno quattro criteri che sono l'intensità la veridicità la complessità e la persistenza della fragranza sotto la lampada e per ogni criterio ci sono tre punti quindi si va da uno a tre quindi per ciascuno di questi quattro criteri avremo tre gradi questi quattro criteri sono rappresentati da queste icone da questi simboli quindi vediamo l'intensità la veridicità la complessità e la persistenza spero che questo criterio di valutazione sia chiaro e semplifichi un po le cose voglio ringraziare tantissimo i miei amici che mi hanno aiutato per la realizzazione di queste icone quindi grazie mille gabriele grazie michele e nulla vi saluto qua intanto giango si sta addormentando e sta scivolando piano piano e ci vediamo al prossimo video e alla prossima recensione ciao ciao